Nelena Bellardita, ieri il Consiglio dei Ministri ha parato delle norme importanti, soprattutto in merito al tema dei liberi consorsi dei comuni. Sì, ieri c'è stata una seduta del Consiglio dei Ministri, nella quale si è dato atto che la Regione Sicilia sta adempiendo a quelle che erano le indicazioni che in via informale e anche in via giudiziale con l'impugnativa, che comunque ricordiamo ad oggi è ancora pendente da parte del Governo, in ordine alle modifiche della legge sui liberi consorsi e le città metropolitane. E questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che il Consiglio dei Ministri ha preso atto che intanto si era bloccata la data del 29 novembre in ordine alle elezioni che erano state indette relativamente alla dotazione dell'organigramma degli enti intermedi. Nel frattempo hanno preso anche atto del fatto che dalla Commissione Affari Istituzionali, la prima commissione dell'Assemblea regionale, è stato esitato il disegno di legge a firma di Rosario Crocetta, nel quale vengono recepite tutte quelle che erano le criticità segnalate dallo Stato. E quando Gela entrerà a far parte della città metropolitana di Catania? L'ITER sostanzialmente prevede questo. Il disegno di legge, col recepimento delle osservazioni governative, approderà in aula all'Assemblea regionale siciliana solo in esito all'approvazione del bilancio regionale. Il bilancio regionale prevede per legge che le sedute assembleari siano monotematiche. In esito a questo, noi riteniamo presumibilmente a partire dalla prima metà di febbraio che il disegno di legge, così come predisposto e così come esitato favorevolmente dalla prima commissione, possa approdare in assemblea e possa giungere quindi al completamento.